per me è la cosa principale, l'ho sempre fatto da quando abbiamo messo su la casa di produzione ma non soltanto per portare lavoro al sud, per promuovere attraverso il cinema e far vedere che il sud non è quello che leggi sempre sulle cronache il sud è un paradiso, è il vero paradiso del mondo e attraverso le immagini tu riesci a far vedere queste verità in giro non soltanto in Italia ma speriamo per il mondo perché comunque questa è una commedia molto carina ma racconta una favola e le favole sono internazionali, non hanno un problema di lingua, le capisci ovunque Casa Grande è un grande professionista, ha scritto questa storia meravigliosa e quindi speriamo veramente di ottenere grandi successi e di portare sempre più lavoro al sud e far sì che questo diventi anche un modo per non far andare giovani via ma portare lavoro sul territorio, scoprire nuovi talenti e portare sempre più turismo Grazie Grazie